Carugno è candidato alla Camera per la lista Insieme Italia-Europa che mette insieme Partito Socialista Verdi e Aria Civica. Qual è la sua idea, lei ha deciso di avere idee chiare per la rinascita di Summona nel centro Abruzzo? La rinascita di Summona nel centro Abruzzo passa attraverso un ricco ordinamento di Summona con il suo territorio. Summona deve capire che non è la capitale di un regno che non esiste ma è la città riferimento e organizzatrice di un territorio più ampio che è quello della Valle Perigna. E questo è il primo punto, quindi solo attraverso una riorganizzazione del territorio si possono cominciare a fare dei progetti comuni, dei progetti sinergici che mettono insieme i valori di questo territorio e noi dobbiamo ragionare come se fosse una grande città anche se non lo è, con tutte le sue peculiarità perché le bellezze non stanno solo a Summona, stanno entro l'acqua, facendo un pugnare a Scallo, sono le bellezze, le qualità, le cose da dare, i servizi da dare, da vendere, sono su tutto il territorio. E quindi più c'è capacità a mettere in coordinamento questo territorio è meglio.